Si iscrive al Bialar dopo due anni della titanza, mi veniva a giocare tipo sotto falso nome, tipo Totorrino. Allora architetto, architetto ben trovato tra i soci del Bialar. Non ci vediamo da anni. È un nuovo acquisto. Giusto un nuovo acquisto. Si mette la maschera per non farsi riconoscere o per fare una rapina. Una rapina, direi una rapina, è il momento. Sentiamo qui l'omino dietro lo sportello. Senti ma gli vogliamo far pagare gli arretrati all'architetto? No, 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 che certo. Per noi è un motivo di grande prestigio. Avere soci di questo tipo? Questo tennis vintage, questo braccio d'oro. Grande braccio, grande talento. Questa palla a un millimetro dal nastro e a un centimetro dalla riga. O sul telone o sotto al gancio. La ricevuta, dottor Paoli! Dottor Paoli! Sono anche la ricevuta. Ecco qui. Ecco, facciamo vedere qui. Tutto a posto, è tutto a posto. La carta è passata. La carta canta. La carta canta. Abbiamo un nuovo socio, signori.